Il chirurgo toracico Paolo Macchiarini è stato assolto con formula piena dall'accusa di truffa e tentata truffa. Lo ha deciso il GUP Fabio Frangini, che ha preso la stessa decisione anche per gli arti imputati del processo contro il medico che ha lavorato all'ospedale Fiorentino di Careggi dal 2009 al 2012. Gli episodi contestati erano una decina. Per l'accusa Macchiarini avrebbe proposto da alcuni pazienti di farsi operare da lui nel privato perché in ospedale c'era una lista d'attesa troppo lunga, cosa non vera. Per questo il PM, Tommaso Coletta, aveva chiesto al termine della sua requisitoria una condanna a due anni e sei mesi. Macchiarini, primo medico al mondo a eseguire un trapianto di trachea, era già stato processato e prosciolto dal GIP del Tribunale di Firenze per le stesse accuse ma la Cassazione aveva cancellato quella sentenza e stabilito che il processo fosse da rifare. Il chirurgo resta sotto processo a Firenze con le accuse di abuso d'ufficio e falso. Niente risarcimento al Policlinico Fiorentino né alla vedova di un paziente.